Ma questo era un uomo! Guarda, un uomo di latta! Voleva un cuore l'uomo di latta? L'alluminio invece, che di latta e lamiera nel tempo è divenuta erede, un cuore ce l'ha sempre avuto, morbido, duttile, leggero e tra i materiali quello che più di ogni altro, si lega con gli altri elementi. Alluminio dal cuore grande, pronto a prestarsi ad ogni segmento dell'economia mondiale, secondo solo al ferro, per la quantità smisurata di possibilità di utilizzo, dalla casa all'industria, dalla terra delle linee elettriche e degli elettrodomestici al mare. Alluminio l'amico del mare, elemento privilegiato dalla cantieristica, struttura per navi agili e leggere, lucido e riflettente come le superfici delle acque da solcare e come il mare, amico a chi lo conosce l'alluminio abbondante in natura, ma restivo ad essere catturato libero, più semplice di ottenerlo da se stesso con il riciclo. È sempre pronta ad emergere dalla terra, gigante buono, che risveglia l'uomo alle sue responsabilità ecologiche. Da 800 lattine si ricava una bicicletta, anzi una ricicletta, mentre ne bastano appena 37 per produrre una caffettiera. Esempi ben noti al nostro paese, dove il 48% dell'alluminio circolante deriva proprio dal riciclo. Un dato significativo che evidenzia i risultati del lavoro svolto dal Cial, il Consorzio Imballaggi Alluminio, da anni impegnato nel riciclo e recupero di questo materiale. Su questo fronte l'Italia occupa infatti una posizione di rilievo nel panorama mondiale. È al terzo posto, insieme alla Germania, dopo Stati Uniti e Giappone. Un successo che passa attraverso l'accordo quadro Anci-Conai e alle numerose iniziative promosse dal Cial per sensibilizzare l'opinione pubblica. Tra queste c'è Raccolta Solidale, che dal 2003 a oggi ha garantito il recupero di circa 200 tonnellati di imballaggi in alluminio, con il coinvolgimento di 130 tra associazioni e cooperative sociali, quando la dimensione sociale si sposa con la tutela ambientale.